Il settore dell'antiquariato è uno dei più colpiti dalla crisi economica, tanto che l'antiquario non può più essere considerato un mestiere per vivere. È ciò che affermano gli ambulanti al mercato di Cremona. Quella che un tempo era la loro attività principale con cui mantenevano la famiglia, ora non è più che un hobby o un secondo lavoro. Il caro benzina, il caro vita in generale, ha inciso sulle spese? Ha inciso tantissimo perché ora la gente è proiettata più su una spesa minima. Penso che spende meno anche perché la vita sociale è cambiata, la gente esce meno, sta più in casa, si è più rinchiusa e penso che questo ci metterà per riprendere. È male perché sono troppe tasse, abbiamo un socio che è lo Stato che non lavora e mi prende l'80%. E' sparito il settore medio, era quello che si lavoravano tutti, sia i negozianti sia i negozi fissi che quelli ambulanti. Io sono fortunato che perlomeno sono in pensione, un reddito mensile c'è. Da noi diciamo spendono qualcosina meno, l'italiano effettivamente spende molto meno. L'oggetto di alto antiquariato sulla piazza non si vende. Si può sopravvivere grazie agli stranieri e all'online, me lo conferma. Si, si esattamente, con l'internet, è un abbinamento diciamo che mi aveva già consigliato e l'andamento che c'è io penso un po' in tutto il mondo. È cambiato totalmente tutta la visione, bisogna proprio essere camaleontici e adattarsi, specialmente qua in Italia. Sentiamo la storia di Franco che è stato costretto a chiudere la sua attività di antiquario. Oggi vende mobili nei mercatini per integrare una pensione che altrimenti non gli consente di sopravvivere. Con questo lavoro, solo fare questo lavoro, no. Se ha, ecco, come io avevo un'attività, prima avevo un'attività diciamo sempre in questo settore, allora andava un po' meglio diciamo perché il lavoro c'era. Adesso l'attività l'ho chiusa perché ormai è andata sempre più in giù diciamo calando. Sinceramente con la pensione non si va avanti ecco. Grazie. Grazie.